Negli ultimi dieci anni i livelli di occupazione del 2008 non sono più stati raggiunti. La disoccupazione è salita costantemente con brevi pause, toccando la vetta nel 2015 con 74.000 persone in cerca di lavoro. A preoccupare maggiormente però il lavoro delle donne, che nella nostra regione resta al palo. Questo è il quadro che emerge dall'analisi elaborata dall'APS Ciancaglini e presentata questa mattina a Pescara dal segretario generale della Cisla Abruzzo e Molise, Leo Malandra, e dall'economista Giuseppe Mauro. A soffrire in particolare il lavoro autonomo, mentre va meglio il lavoro dipendente. La situazione è che ancora la regione si trovi in una fase di lenta crescita, perché tutti gli indicatori che abbiamo a disposizione testimoniano una ripresa timida, non sostenuta. Credo che abbia anche influito l'aspetto extraeconomico, come i recenti fatti climatici e il sisma, che hanno condizionato la produzione e quindi il prodotto interno lordo, che nel 2016 è addirittura diminuito dello 0,2%, mentre le altre regioni sono più o meno in crescita. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che c'è stata una crescita occupazionale tra il primo e il secondo trimestre di quest'anno, però se il riferimento lo facciamo con il periodo pre-crisi, cioè prima che scoppiasse questa grande crisi finanziaria, e ancora mancano all'appello oltre 20.000 occupati. Per la Cisle è necessario un cambio di passo della politica regionale, devono essere immediatamente sbloccati i progetti ed azioni previsti dal masterplan, dai fondi europei, dal patto per lo sviluppo e dalla carta di Pescara. Le ricette sono sicuramente complicate e sono ricette che si risolvono soltanto se c'è piena collaborazione e un grande confronto tra le forze politiche, la Giunta, le associazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali. Dobbiamo creare un sistema che regga e che dia risposte a quelle che sono le esigenze occupazionali, produttive del Paese e competitività dei nostri territori.